Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Acquario, gli impegni professionali si preannunciano piuttosto faticosi, inizierete la giornata con lo spirito giusto ma con il passare delle ore aumenterà la stanchezza. Pesci sarà una giornata in cui Venere in posizione magnifica vi permetterà di vivere intense emozioni sentimentali, sono possibili nuovi incontri e nella coppia c'è feeling. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.